Noè, ma che ce fai qui a edermi? Ho portato i lombrichi a fare i fanghi! Non stiamo facendo niente per questo viola freddore! Sento che posso! Sì? Sì! Oh, ma è passato! Pietro, ma come ha fatto? Siamo in paradiso, no? Come posso sdebitarmi? Con un buon caffè? Crema e gusto? Ottimo! Ho capito, vado! Che profumo, si sente pure col naso chiuso! Sempre buono! E la pazza crema e gusto? Questo ti rimette al mondo! Oh, Pietro, si può fare niente per la bruce del maestro? Ma che c'ha, voce mia? Ma che c'ha? Ci vorrebbe il primario! No, almeno è bravo! Ma chi? Eh, sto primario! Lo vedi? Che poi quello da voce è il problema minore, eh!